Ciao ragazzi, sono pandonesi per questo nuovo video Ciao ragazzi, io ho incontrato un mio amico che si chiama il youtube, che mi chiamo il youtube, si chiama andatelo a seguire sono molto belli Oh, ci vediamo che siamo più forti non sono più forti, ma non sono più forti ma non sono più forti ma non sono più forti ma non è più forti ma non è più forti ma non è più forti quindi noi andiamo dalla parte 9 ragazzi, me ne vado stai no ma guarda stai sto io me ne vado qui trovo qualche roba meno buona ma almeno non ce ne sono più che allora partiamo 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 Allora Ragazzi in questo video parlerò molto poco Io ho il 50 vs il 50 Io veramente faccio Cioè sono bravo Però mi concentro troppo E a volte quando mi concentro Non comincio a parlare più Ed è tanta roba Tanta roba Che io non parlo più Perché io sono un chiacchierona Quindi Allora Heidi Tra le montagne Verdi Vabbè Avete Sentite anche voi Cassa Sì Sì Vediamo che stai qui Eh Non posso stare qui Sì 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 ragazzi allora 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 Allora, passiamo, passiamo, rispondo, il materiale Io spero di rimarmi gianto In queste cose, le gianto sono essenziali, in queste sfide Degli scassoni, per tutti come me Oh, 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 cari tutti, cari tutti, belli Non cominciamo ad affaitare i giorni Siamo, guardate, guardate, tutto Non cominciate già a affaitare Allora, ragazzi, oggi vi insegnerò come giocare a Fortnite Si gioca a Fortnite così, ragazzi Siete pronti? Così, state qui dietro Ah, ah, aspettate, passa qualcuno e l'ho ammazzata La regola del camper non si infama, ragazzi Ecco, 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 ecco Io sono detto per il camper, non si fa Ah, 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 ah Eh, però, sono un po' le da 6 E dovrei cominciare a muovermi Ma tanto, c'ho 6 minuti, la voglia Oh, 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 oh Ragazzi Vi siete mai chiesti Come buttare giù un muro in casa vostra? Ma non lo sapete fare? Beh, ho trovato la vostra sorpresa Facilissimo Guardate, è proprio un metodo semplice Ah, oddio, c'era una cassa di munizia Aspettate ragazzi, ho un piano Ah, questa è la foto del nostro matrimonio tesoro Guarda quanto è bella Aspetta, aspetta Il canestro Port mondiale Sììì Ci vediamo Oggi ho mangiato un dizionario Un dizionario Ma che 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 Ti spiegami che cosa ti è servita questa scappa ma proprio un po' Sì! Avete sentito pure voi? Amiche Ciao amiche ti devo dire una cosa muori per favore se no mi rovini il video e ti devo evitare ma io non ce voglio esitare Aaaa aspettate ragazzi fermi tutti ho un piano geniale per fare vittoria reale Heidi Ascoltate questo Questa è la vera musica Ma adesso partirà il drop S4 Io rimanevo in scelta con la PS4 Aspettate Sparati amici Sparati Sopra Ecco lì La 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 Sparati La 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.